Per fronteggiare il difficile momento di crisi economica, l'assessore ai tributi Carla Cecchietelli ha annunciato modifiche su una parte del regolamento di riscossione delle entrate. Questo cambiamento permetterà di poter rateizzare in 60 mesi le somme dovute da parte di coloro che sono in mora con l'ente pubblico e che dimostrano di avere oggettive difficoltà economiche. Il vecchio regolamento prevedeva la rateizzazione in 12 mesi, intendiamo portarla ad un massimo di 60 mesi dopo 4 rate non pagate, quindi l'utente potrà far richiesta all'amministrazione comunale della dilazione. Su tale dilazione verranno applicati gli interessi legali, però solo a coloro che sono in comprovate difficoltà finanziarie. Comunicazioni importanti poi ci sono anche per quanto riguarda la TOSAP, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dovuta quando un soggetto occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale. A causa della costituzione della società Aset Entrate sono stati necessari trasferimenti di dati e cambi di procedure a livello informatico. Per questo motivo i bollettini sono stati inviati in ritardo e per venire incontro ai cittadini al posto del 31 marzo la scadenza per il pagamento è stata prorogata al 15 di aprile. Per quanto riguarda la tasa, per le somme superiori a 258 euro potranno essere corrisposte in tre rate. La prima pari al 50% viene pagata al 15 di aprile, la seconda rata pari al 25% dell'importo dovuto entro il 30 giugno 2015 e la terza rata pari al 25% del dovuto entro il 30 settembre 2015. Il Comune di Fano inoltre vuole rivalorizzare i passeggi, per questo ha promosso un bando di gara che prevede la concessione dell'area alla ditta, che proporrà il progetto dichiarato poi vincente fino al 22 ottobre 2021. In cambio dovrà riqualificare il parco con finalità ludico, ricreative e associative. La ditta dovrà gestire anche il punto di ristoro che verrà aperto nella casetta già esistente vicino al Ponte Rosso. Qui si potranno somministrare anche bevande alcoliche ma non ai minori di 16 anni. Coloro che parteciperanno al bando dovranno avere cura anche sia del parco, le piccole cure del parco, interventi quotidiani, l'apertura e la chiusura del parco passeggi, manutenzione dell'arredo, dei giochi per bambini, tavoli. Tutti coloro che vorranno partecipare, sia associazioni che privati, dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 20 aprile prossimo.